Il titolo dell'opera è Youchi Soga Kariba no Akebono, la vendetta dei fratelli Soga. Onji Daimono del ciclo Soga, scritto da Kawatake Mokuami e rappresentato per la prima volta a Maruya Za nel 1814, recitato in stile classico con accompagnamento Gioruri. Atto 1. La casa di Manco, la madre dei fratelli Soga. Soga Manco vive con il secondo figlio, Sugetoshi, che è cieco e si è fatto prete. Una sera riceve la visita degli altri suoi due figli, Juru Sukenari e Goro Tokimune, che sono venuti a dirle che sperano finalmente di poter vendicare il loro padre. Manco li ha levati nella convinzione che questo fosse lo scopo delle loro vite, ma ora che il momento è giunto, il suo cuore di madre si stringe al pensiero che sta mandando quelle giovani vite incontro a morte certa, perciò chiede a Giuro di andare da solo. Egli è il maggiore e a lui spetta il compito, così suo fratello sarà risparmiato. Goro però non lo tollera, la sua natura selvaggia e appassionata agogna la vendetta. Anche il fratello cieco implora di poter andare con loro, in modo da dimostrare la sua devozione. Giuro, ben sapendo che il cuore di Goro si spezzerebbe per il divieto, implora la madre che alla fine acconsente con rilutanza, ma a Sugetoshi viene detto che dovrà starne fuori. Amaramente mortificato, Sugetoshi si toglie la vita. Giuro e Goro partono per portare a termine la loro vendetta, camuffati sotto cappelli da contadino e cappotti di paglia. Atto 2. Di fronte all'alloggio di caccia di Kudu su Kezune, di notte. Giuro e Goro entrano dall'anno amici, reggendo delle torce. Individuano il padiglione dove sta dormendo su Kezune e si appartano. Spengono le torce e si purificano, prima di iniziare l'atto di vendetta, cosa che fanno bagnandosi le labbra con l'acqua piovana. La porta della casa si apre e ne esce una cortigiana con un nastro in mano. È Tsurukame Kisegawa che ama i fratelli e intende aiutarli. Ha sentito il loro furtivo avvicinarsi e ora mormora alcune parole, come se stesse parlando tra sé e sé per far capire loro che sa della loro presenza. Rientra in casa, ma non sbarra la porta. Giuro entra silenziosamente dietro di lei, seguito da Goro. Un attimo dopo viene dato l'allarme e i servitori di Sukhezune irrompono sulla scena. Le porte scorrevoli della stanza di Sukhezune vengono abbattute e si vedono i due fratelli nell'atto di uccidere il loro nemico. Vengono assaliti da ogni direzione, ma, balzando fuori della stanza da letto, respingono gli attaccanti di fronte a loro, ma vengono separati l'uno dall'altro nella confusione. Il palco ruota. Un'altra parte del campo. Giuro combatte virilmente, finché viene affrontato dal grande guerriero Nitta Takatsuna. Takatsuna è noto per essere senza uguali in combattimento e Giuro è già stremato dal molto combattere. Takatsuna lo disarma due volte e due volte, cavalleriscamente, gli restituisce la spada, ma la terza volta l'arma di Giuro si spezza e viene ferito. Takatsuna non può più risparmiarlo e con rilutanza si prepara a tagliarle la testa. Il palco ruota. Un'altra parte del campo. Nel frattempo Goro ha messo in fuga chi lo circondava e sta disperatamente cercando il fratello. Improvvisamente sente la voce Nitta Takatsuna che proclama di aver ucciso Soga Giuro su Kenari. Angosciato, Goro corre via, alla ricerca dell'alloggio dello shogun, Minamoto Yoritomo. Il palco ruota di nuovo, di fronte all'alloggio dello shogun. Goro intende fare irruzione nella stanza dello shogun e ucciderlo per vendicare la morte del fratello. La porta della stanza viene sospinta da una figura che, nell'oscurità, egli crede essere quella di una donna, dato che indossa una cappa da donna sul capo. Goro non fa caso a quella persona che gli passa a fianco e quindi lo afferra con una stretta d'acciaio. È Gosho no Goromaru, o Gorozo, un membro della casata di Yoritomo che, nonostante sia piccolo per essere un ragazzo, è famoso per la forza delle sue mani. Egli sconfigge Goro e lo fa prigioniero. Gosho no Goromaru è il personaggio storico Gosho no Goromaru, data di nascita 1165, data di morte sconosciuta, il cui vero nome era Gosho Shigemune. È noto per aver salvato lo shogun Minamoto no Yoritomo durante la notte in cui avvenne la vendetta dei fratelli Soga verso Kudo Shuketsune, colpevole della morte del loro padre naturale, in occasione della grande battuta di caccia del 1193, la Fuji no Makigari, uccidendo Soga Goro, mentre Soga Goro fu ucciso da Nitta Tadazune, un subordinato di Kudo. Nato sul monte Iei, nelle vicinanze di Kyoto, sembra si sia trasferito a 16 anni dopo aver vendicato la morte del suo mentore nella provincia del Kai, al maniero di Amari con Ichijo Tadaiori, o Ichijo Giro, anche lui, data di nascita sconosciuta, data di morte 1184, ucciso per ordine di Yoritomo. Egli poi passò alla dipendenza di Minamoto Yoritomo. Un resoconto dice che già a 18 anni aveva la forza di 85 persone. Non vi è una data certa della sua morte, ma un monumento tombale si trova a Yagoshima, sulle Alpi di Minami, prefettura di Yamanashi. Delle pietre di fondazione a Gosho Gaoka, Koshigoe, Kamakura, indica il luogo dove la tradizione afferma ci fosse la sua dimora. Compare anche in Soga Maio Tateshino Gojogosomi. La famiglia Gosho serviva alla potente famiglia Fujiwara e governava niente meno che il santuario di Atsuta, dal cui prende il nome. Il palazzo di Atsuta era detto Atsuta Gosho, nella provincia di Uari. I suoi discendenti prenderanno il cognome Usa e seguiranno Nekyushu Otomo Yoshinau 1172-1223 nel 1196. Gli autori hanno erroneamente riportato il nome Nitta Takatsuna al posto di Nitta Tadatsune 1167-1203, le cui origini non sono note, ma apparteneva al clan Kano, un ramo cadetto dei Kudo, e proveniva dal villaggio di Nitta, nella provincia di Izu, attuale Kannami, provincia di Shizuoka, e partecipò alla guerra Genpei sotto le insegne di Minamoto Nori Yori e alla battaglia di Oshu nel 1189. Durante la battuta di caccia organizzata da Yoritomo nel 1193, la Fuji no Makigari si distinse uccidendo un enorme cinghiale, che la tradizione vuole fosse un animale sacro alla divinità Yama no Kami del monte Fuji, che egli poi incontrò personalmente inoltrandosi nella grotta Itohana del monte Fuji. Per quanto riguarda lo scontro con Sogajuru, sembra che quest'ultimo sia riuscito a ferirlo leggermente all'avambraccio e alla testa, ma che il colpo di un certo Koshibakagi no Kage gli abbia fatto cadere la spada, permettendo a Nitta di tranzarlo dalla spalla sinistra al pettorale destro. Sembra che quando Kano è malato, lo stesso shogun Yoritomo si raccò ad assisterlo e che sua moglie sia morta annegata al santuario Mishima, città di Mishima, provincia di Shizuoka, penisola di Izu, fondato nel IX secolo, mentre pregava per la sua salute. Successivamente alla morte di Yoritomo, egli divenne stretto collaboratore del figlio Yori e sul suo ordine uccise Iki Yoshikazu nel 1203, ma finì vittima dei giochi di potere con la famiglia Ojo, venendo ucciso da Kato Kagetado nel 1203. Atto 3. Il padiglione dello shogun. Il mattino seguente. I consiglieri dello shogun sono riuniti ed egli ha espresso il desiderio di giudicare personalmente il caso di Goro. Kajiwara Kagetaka è contrario al fatto che il giovane uomo venga interrogato e pensa che dovrebbe essere giustiziato senza indugi per aver cercato di attentare alla vita dello shogun. Goshu no Goromasu entra con Goro legato e lui e Kajiwara vengono quasi alle mani per il prigioniero, ma si trattengono all'arrivo di Yoritomo. Goro Maru presenta colui che ha catturato. Goro mantiene un dignitoso silenzio e si rifiuta di rispondere ad ogni domanda che non provenga dallo shogun stesso. Yoritomo è impressionato dalla fierezza del giovane e gli offre un tappeto di pelle sul quale sedersi, dato che il terreno è zuppo di pioggia. Goro è sorpreso e commosso per tale inattesa gentilezza. Risponde alle domande dello shogun in maniera chiara e descrive l'omicidio del padre a opera di Kudo Suketsune, la lunga attesa dei fratelli prima che potessero ordire un piano di vendetta e il loro trionfo finale. Yoritomo è commosso dalla storia e comprende che Goro non ha mai avuto un'intenzione premeditata di ucciderlo. Gli dice quindi che il fratello è morto, cosa che Goro sa già, ma la cui notizia lo abbatte profondamente. Yoritomo fa slagare Goro e gli offre di lasciargli vedere la testa del fratello per l'ultima volta. Nit Takatsuna entra, reggendo la testa e la piazza di fronte a Goro, che si inghiozza su di essa, elogiando il fratello e, poi, chiede come è stato ucciso. Nit descrive lo scontro e poi mostra la spada spezzata come prova del grande valore di giuro. Inobo Maru, il figlio piccolo di Kudo Suketsune, irrompe sulla scena con un frustino in mano e attacca Goro, gridando che vendicherà la morte del padre. Goro all'inizio lo spaventa, ma poi lo guarda con tristezza e gli dice di colpirlo più forte. Inobo Maru sente che il suo desiderio di vendetta è svanito e cade al suolo di fianco a Goro, iniziando a piangere. Goro gli chiede di prendersi la sua vendetta mentre può, perché lui stesso sa quanto sia amaro cullarne il desiderio nel proprio cuore. Lui ha dovuto attendere 18 lunghi anni. Offre a Inobo Maru di colpirlo quanto vuole, se ciò può alleviare il suo dolore. Inobo Maru ormai non ne ha più desiderio, ma infine dà a Goro un paio di stanti colpi sulle spalle. Yoritomo, più impressionato che mai dal carattere di Goro, gli offre la libertà, ma egli rifiuta la clemenza dello shogun, dichiarando che, dato che suo fratello lo sta ora aspettando sulla strada della morte, desidera solo affrettarsi a raggiungerlo. Lo shogun quindi lo fa suo personale prigioniero, legandolo con una corda di seta, e dichiara che li renderà onore giustiziandolo con le proprie mani. Kajiwara Eiki Kagetaga è il secondo figlio di Kajiwara Kagetoki, 1140-1200, e il fratello di Kagesue, 1162-1200. Non trovo altre informazioni su di lui, a parte che nella battaglia di Ichinotani, 1184, fece irruzione da solo nel campo nemico e il padre e il fratello si lanciarono due volte in un ride alla fine di trovarlo e salvarlo, episodio ricordato come Kajiwara Nidogake, il doppio attacco di Kajiwara. Compare nel ruolo del fratello in belle e geloso in Iragana Seisuki.